Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore su di noi. Carissimi amici, eccoci ritrovati anche questa settimana al nostro incontro. Oggi la liturgia ci propone il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti dal 7 al 13. Vediamo che Gesù lascia Nazareth delusso dall'atteggiamento dei suoi concittadini che lo rifiutano e non accettano le sue parole. E così egli comincia a insegnare altrove e chiama 6 al 12 per portare avanti la parola di Dio ed far espandere il Vangelo. Ma la missione ha delle regole ben precise. Gesù dice infatti il 12. Di portare con sé soltanto il bastone, di non portare né pane, né denaro, né cintura. Perché queste raccomandazioni? Perché per essere missionari si deve essere liberi di tutto. Innanzitutto liberi dei portateggiamenti, dei propri pensieri. Ma i dodici che Gesù chiamava allora siamo oggi noi. Qual è la nostra missione oggi nella Chiesa? Il Vangelo di oggi ci parla di missioni. E a volte noi pensiamo che esseri missionari sono solo quelli che hanno una missione nella Chiesa, una vocazione particolare per le evangelizzazioni. Noi dobbiamo pensare che noi, come battizzati, siamo chiamati a vivere una missione nella Chiesa. Nella testimonianza della nostra vita, in tutto ciò che facciamo, in tutti i luoghi, nel lavoro, nelle famiglie. Perché noi, come battizzati, siamo chiamati a vivere in questo modo. Perché a volte con la nostra vita noi testimoniamo più che con parole. E a volte noi non dobbiamo essere trattati se qualcuno possa aggettare la nostra testimonianza, no? Perché il Signore sta nel momento giusto della connessione di quella persona. E noi dobbiamo solo pregare e aspettare. Noi non dobbiamo disincoraggiarsi di questo atteggiamento. Dobbiamo pure pregare per coloro che sforgono una missione nella Chiesa, che sono missionari, che devono proclamare la parola di Dio in tutti i luoghi. E a volte trovano tante difficoltà e tanti rifiuti, come è l'esempio degli Apostoli. In questo momento io voglio invitare a tutti a fare una preghiera per queste che sono in difficoltà, che si trovano in luoghi di difficile evangelizzazione, perché il Signore possa aiutarli, concedere a loro la forza da affrontare ogni difficoltà, ogni cuore indurito possa essere toccato dall'amore di Dio.